buon sabato pomeriggio popolo rosso nero popolo del maldito tra poco la conferenza stampa di mister fonseca che seguiamo anche se ovviamente l'infortunio di calabria si lascerà che sia ancora messo royali a destra a giocare in fascia per il resto l'unico dubbio penso sia paolo which uno tra gabbie tomori probabilmente più a rischio tomori di gabbia per il resto credo che il mister punterà sulla solita formazione salvo speriamo di no problemi dell'ultimo minuto perché perché poi insomma si andrà alla sosta e l'indicazione ormai è quella di cercare di mettere a regime un po tutto il sistema di gioco prima di cominciare poi a inserire anche gli altri ma oggi pomeriggio gioca anche milan futuro sono molto curioso di insomma di vedere i ragazzi e speriamo che insomma saltino fuori tre punti perché ho sentito un po troppe critiche a questi ragazzi forse qualcuno non capisce la differenza che ci può essere che c'è tra un campionato primavera uscire da un campionato primavera e finire in un campionato di serie c cioè bisogna aver giocato a pallone per capirlo se non si è giocato a pallone probabilmente è una cosa difficile da comprendere tant'è che io non pensavo neanche sinceramente che a questo punto i ragazzi avrebbero già fatto questo tipo di questo tipo di cammino sinceramente pensavo molto peggio all'inizio ovviamente poi chiaramente con l'abitudine con i miglioramenti ci saranno evidente ma non pensavo che diciamo le partite fossero così equilibrate e i ragazzi portassero a casa dei punti una vittoria dei pareggi pensavo facessero molta più fatica questo conferma credo che abbiamo dei ragazzi assolutamente interessanti interessantissimi e il fatto che gabbia e maldini che a me non è più nostro finiscano ora il nazionale è la prova del fatto che bisogna saper aspettare i giovani bisogna saperli dar loro il tempo il tempo di essere e di diventare decisivi e noi ne abbiamo di assolutamente interessanti che non meritano assolutamente le critiche corretto in questi giorni quindi forza milan futuro un like al video se volete supportare il canale la campanella per le notifiche l'iscrizione gratuita e naturalmente poi un ringraziamento speciale a tutti 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 gli abbonati allora facciamo una riflessione stamattina no perché vi confermo che la sensazione che anche questa volta la faranno franca è totale è totale ma l'ho capito dal momento che hanno cercato di accumulare il milan a loro in quel momento ho capito che l'intenzione è quella di farla franca anche stavolta malgrado un'intercettazione malgrado tutto la faranno franca anche questa volta però pensavano pensa un po sei anni di coperture totali sei anni di una situazione finanziaria che ancora adesso lascia aperta la strada molti moltissimi dubbi sei anni con alla guida il il dirigente diciamo che ha preso il posto dei vari allodi poi moggi insomma dirigente che comanda il calcio italiano e sappiamo cosa significa comandare il calcio italiano e abbiamo visto nella storia sei anni in cui una presidenza su ning è finita come finita malgrado tutti lo negassero malgrado fino a due giorni prima non era un problema e tutto andava bene tutto era a posto tutto era meraviglioso sei anni in cui abbiamo visto degli arbitraggi quanto meno strani quanto meno soprattutto l'anno scorso ma per evidenti motivi l'anno scorso penso che sia chiaro tutti che dovevano assolutamente vincere quello scudetto per ovvi motivi direi c'è bisogno di spiegarli e hanno fruttato due scudetti poco poco io credo che tutta questa è protezione ho dimenticato la protezione mediatica ho dimenticato la protezione mediatica sei anni così solo due scudetti sono un fallimento sono un fallimento clamoroso io credo che con la protezione ricevuta in tutti questi anni da tutte le componenti tutte le componenti tutte due scudetti e poco è poco ora non lo so cosa succederà sinceramente a questo punto non mi interessa neanche più perché il circo oramai è chiaro ed evidente a tutti la nostra situazione è diversa la nostra situazione ci vede diciamo provare a vincere stando nelle regole e questo è complicato visto quello che sta succedendo da sei anni adesso mi riferisco al caso discorso che dura da sei anni è difficile sicuramente però però chissà mai che passo dopo passo anche se bisogna avere tanta 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 pazienza passo dopo passo magari ci possa essere un'altra sorpresa tipo quella del 2022 su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo no ripeto siamo corti per poter fare questo secondo me bisognerà intervenire a gennaio almeno in due o tre ruoli oppure sperare e qui torniamo al discorso sul mio futuro che questi ragazzi qualcuno di questi ragazzi una volta approvato si dimostri così avanti così pronto da poter dare un contributo importante alla squadra ci sono tre o quattro giocatori io penso a liberali spesso perché se io ho visto giocate di liberali che sinceramente mi sembrano al di là del fattore età mi sembrano le giocate di uno che ha il calcio dentro cioè di un giocatore sopra fine e quindi in quella posizione lì dove ora abbiamo solo morata e era perché mi sembra che io vi ci sia ormai perso la causa e non mi sembra adatto a fare quel tipo di lavoro sinceramente io credo che lì possa essere liberali quello giusto se avremo la fortuna una volta che magari verrà inserito di avere dei buoni risultati perché questo è un'incognita puntare sul giovane è sempre un'incognita lì a destra c'è un altro grosso problema perché calabria abbiamo sentito ora starà fuori un mesetto ma non dava garanzie prima non le dà adesso non le darà quando rientra che è ma solo royal insomma pur con tutta la fiducia sembra abbastanza un giocatore che ha diciamo un livello non non eccesso diciamo così e quindi lì potrebbe essere i menets quello giusto potrebbe essere lui io sinceramente sui menets ci proverei puntare o prima magari già adesso perché mi sembra un giocatore che ha qualcosa in più qualcosa in più ricordo la prima di campionato mi sembra del di milan futuro allenatore la squadra avversale a dire che i menets e foss erano di un'altra categoria avrebbero giocato poco in serie c ecco io credo che i menets vista l'esigenza che abbiamo e tra l'altro i mezzi può giocare sia a destra che a sinistra però punterei lì a destra potrebbe essere una soluzione ai problemi domani giocherà ancora è messo royal quindi io penso ecco non lo so se con bartesaghi squalificato credo che i menets domani sarà in panchina anche se mi piacerebbe vederlo giocare oggi però penso che sarà in panchina domani chissà mai di vederlo e a centrocampo fermo restando che uno andrà preso su benassera più o meno mi sembra lo stesso discorso di calabria però vedremo al centrocampo abbiamo zeroli e foss che possono essere linfa linfa per il rimpolpare diciamo questa squadra che in questo momento vede sempre quei 12 14 giocatori no non si riesce a vedere qualcosa in più e mi sembra che in questo momento anche fonseca non ci punti più di tanto quindi guardiamocene con attenzione questi ragazzi di bilan futuro sosteniamo gli stiamo di vicino ti fiamo anche per loro e speriamo che sbocci qualcosa che possa aiutare ma la prima squadra i nostri ragazzi magari a regalarci chissà uno scudetto che sarebbe che ve lo dico a fa forza milan sempre comunque andiamo ascoltare mister fu seca